Ciao a tutti, in questo video parleremo di un argomento molto importante per la crescita delle piante, la quantità di ore di luce. In particolare analizzeremo un esperimento condotto da un giardiniere youtuber, i cui risultati confermano le mie precedenti osservazioni sull'importanza del ciclo giorno-notte. Qui vi lascio il suo video. Questo giardiniere ha coltivato quattro gruppi di piantine, rucola, broccoli, pomodori e peperoncini, con quattro diverse quantità di luce, 6, 12, 18 e 24 ore. Durante i primi 15 giorni tutte le piantine sono germinate più o meno allo stesso modo. Tuttavia dopo 30 giorni è emersa qualche differenza. Le piantine che avevano ricevuto 6 ore di luce erano piccole e deboli. Le piantine che avevano ricevuto 24 ore di luce mostravano segni di sofferenza e foglie arricciate. E la crescita era stentata. Le piantine più sane e vigorose erano quelle che avevano ricevuto 12 e 18 ore. Tra quest'ultime non c'era una grande differenza di crescita. Forse solo mezzo centimetro in più per quelle che avevano ricevuto 18 ore. Questo suggerisce che dare 12 ore di luce ai peperoncini è più che sufficiente e risparmieremo energia elettrica. Questi risultati confermano ciò che spiegavo in questo video. Le piante hanno bisogno sia di luce per la fotosintesi, sia di un periodo di buio per riposare, un po' come noi. La fotosintesi è il processo durante la quale le piante trasformano la luce in energia, essenziale per la loro crescita. Ma il buio è altrettanto importante perché permette alle piante di svolgere altre funzioni vitali. Durante la notte, in assenza di luce, le piante subiscono importanti cambiamenti botanici. Ecco i principali processi che avvengono. In assenza di luce la fotosintesi si interrompe. Questo processo attraverso il quale le piante producono energia utilizzando la luce, l'acqua e l'anidride carbonica lascia al posto alla respirazione cellulare. Durante la respirazione cellulare, le piante consumano l'energia accumulata per alimentare le loro attività metaboliche, essenziali per la crescita, per la riparazione dei tessuti e la risposta agli stimoli ambientali. Di notte, le piante di peperoncino chiudono i loro stomi, piccole aperture su foglie e frutti, per ridurre la perdita d'acqua. Nonostante la fotosintesi si interrompe di notte, la crescita dei peperoncini continua. Infatti è proprio durante la notte che queste piante crescono maggiormente, utilizzando l'energia accumulata durante il giorno per sviluppare fusti e radici. In sintesi, la notte è un periodo di importanti cambiamenti per le piante a livello botanico, un momento cruciale per il loro corretto sviluppo. Di conseguenza, vi consiglio di impostare le vostre growbox a 12 ore inizialmente e man mano che le piantine crescono, spostarci verso le 16 ore, ma non di più. In questo modo ci avviciniamo maggiormente al ciclo di luce che le piante avranno in natura. Infatti, qua in Svizzera, tra maggio e giugno, periodo in cui si potrà portare all'esterno le piante, ci sono tra le 15 e le 16 ore di luce al giorno, con il picco massimo intorno al sostizio d'estate che è il 21 giugno. Inoltre è importante utilizzare una luce a spettro completo, per garantire alle piante tutti i componenti dello spettro luminoso necessari per una crescita sana e rigogliosa, proprio come farebbe la luce solare naturale. In conclusione, per coltivare piante sane e vigorose è necessario fornire la giusta quantità di luce e un ciclo giorno-notte. Spero che questo video vi sia utile. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto è tutto vostro. Grazie per essere stati con me questa domenica e piccanti saluti! Hot, hot, hot Red Joe